Ciao a tutti, in questo caso maestri. Maestri che hanno dei piccoli, piccoli o grandi allievi come noi e si stanno chiedendo che cosa fargli fare in questo periodo. Noi ci siamo scervellati davvero, abbiamo cercato di trovare soluzioni perché questo isolamento forzato non finirà domani mattina. Cosa facciamo, cosa non facciamo? Non avevamo un modello, ci siamo dovuti inventare un po' tutto e siamo arrivati a una possibile soluzione. Intanto è rivolta a chi ha un minimo di spazio, basta anche davvero un garage o un cortiletto piccolo. Come è strutturato questo modello che abbiamo pensato? È abbastanza, diciamo, semplice nella sua scaletta, poi bisogna vedere se funziona. Noi prepariamo un video a settimana che carichiamo il venerdì sera su YouTube. Condividiamo questo link con i nostri gruppi di allievi, loro lo guardano. Il giorno successivo ci sentiamo in videochiamata, tutti insieme. Quindi gli allievi di quel gruppo lì, con il loro maestro, si sentono. Dovete solo trovare una piattaforma che funzioni. Su questo noi siamo ancora un attimino in fase di valutazione, perché non ne troviamo ancora una davvero stabile dove non salti il segnale. Ci sentiamo con gli allievi in videochiamata e diamo a loro, diciamo, dei chiarimenti rispetto al video che è stato fatto. Chiarimenti personalizzati, perché conoscendoli sappiamo quali sono, diciamo, i pregi e i difetti di ognuno, i punti forti e i punti deboli e allora diamo consigli specifici, più precisi, più mirati. Anche sapendo dove andranno a farlo. Ognuno ha uno spazio a casa diverso dall'altro. Una richiesta che abbiamo deciso di aggiungere da questa settimana è il fatto che loro siano già in videochiamata pronti con il casco. Cioè, finita la videochiamata, loro escono di casa, prendono la bicicletta e fanno quello che abbiamo, che ci siamo detti. E qui qual è la richiesta? Di filmarsi. Ovviamente le indicazioni sono semplici, non dobbiamo dare cose molto complesse. La prima lezione, ad esempio, è il surplus. Surplus dove chiediamo di farlo in un certo modo e di farlo per più tempo possibile. Indicazione data, fatelo, provate, non provate una sola volta, provateci diverse volte. Mandateci un video, se riuscite già in giornata, e noi ve lo commentiamo, vi diamo indicazioni. Attenzione! Chiedete il video già in giornata perché così siete sicuri che loro mentalmente prendono quel momento lì del sabato per parlare con voi, per fare l'attività e per rimandarvi il materiale video. Così non si perdono, non si dimenticano e lo fanno. Perché c'è quello più soldatino, un po' più così, che magari poi lo fa anche quattro giorni dopo, c'è quello che invece si perde e non lo fa più fino a quando non gli chiedete se l'ha fatto. Chiedetevi farlo subito. Quando loro vi mandano il video però, date un feedback, date sempre un feedback positivo, quindi che cos'è che hanno fatto di giusto, e poi dategli un'indicazione in più per fare qualche cosina di più rispetto a quello che avete visto. Vediamo, noi stiamo provando. Il modello è questo qua, relativamente semplice. Si evolverà di settimana in settimana, vediamo cosa ne esce. Se avete qualche consiglio, noi lo accettiamo ben volentieri. Se avete delle idee, contattateci, sentiamoci. Cerchiamo anche di ottimizzare questo sistema, proprio perché lo stiamo, diciamo, pensando da zero. Se ci aiutiamo tutti, probabilmente ne viene qualcosa di più costruttivo. Soprattutto per i ragazzi che in questo momento stanno patendo un pochino questo isolamento dagli altri e l'impossibilità di vederli, di sentirli. Noi vi salutiamo e speriamo, come sempre, di esservi stati utili. Ciao a tutti! Ciao a tutti!